17 agosto 2017 parte la nuova stagione della Fiat Auxilium, coach Bank insomma ci siamo? Sì, finalmente partiamo dopo un'estate complicata di profondi cambiamenti per me e per l'organico stesso è finalmente il momento di iniziare quindi da stasera saremo al campo qualche giorno per introdurre la squadra al lavoro fisico e poi la partenza per Salice dove cominceremo ad approfondire il nostro rapporto Certo, anche a trovare un po' la chimica perché parlavamo con il presidente Forni, tante novità quest'anno in roster tanti americani praticamente tutti nuovi quindi prima che la palla spicchi ci sarà anche da formare proprio la chimica del gruppo Certo, in questo spero che mi aiutino due elementi di continuità che questo club ha Peppe Poeta e Deron Washington in particolare ma è ovvio che anche il ritorno di Parente, Mazzola e Okè che servirà a compattare più velocemente questo gruppo che ha bisogno di conoscersi e cercare di esprimere una pallacanestro efficace perché molto presto saremo attesi a appuntamenti importanti perché non solo campionato ma anche Euro Cup quindi c'è tanto che bolla in pentola Quanto c'è della tua mano in questa squadra, nelle scelte di questo roster insomma? È un po' figlia tua questa squadra? Beh, in parte perché credo sia scontato che un allenatore debba dare delle indicazioni non si può assolutamente prescindere da un'identità di gioco che spetta all'allenatore definire e esprimere gradimento per quei giocatori che possano poi sul campo cercare di trasformare al meglio le tue idee purtroppo questo posso dire è accaduto soltanto in parte ma cercherò comunque di rendere questo organico quanto più competitivo possibile Notavamo con i colleghi un precampionato già a Tostino nel senso che due sedi di raduno quindi Salice e poi Bormio, soprattutto a Bormio anche diversi amichevoli precampionato poi a Torino con Cantù, con Lubiano, insomma delle partite, sarà già non basket vero, basket d'agosto però insomma cerchi di avvicinarti non con le amichevoli materasso ma già insomma testando la squadra subito sul campo Sì, le due diverse location hanno anche finalità diverse a Salice saremo per sviluppare una settimana di lavoro intensa concentrata prevalentemente sul lavoro quotidiano sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico settimana che si chiuderà con un amichevole contro Dertona ma sarà semplicemente uno scrimmage, quello che in gergo viene definita una sgambata come detto per chiudere una settimana dove noi cominceremo semplicemente ad abbozzare il nostro lavoro che poi mi auguro prosegua senza intoppi a Torino e poi il trasferimento in Valtellina dove andremo come detto con finalità totalmente diverse ovvero quelle di giocare e raggiungere quella forma proprio da partita quella condizione da partita che ci dovrà aiutare ad arrivare poi all'inizio delle competizioni ufficiali nel modo migliore possibile Il valore degli avversari dipende dalla volontà di trovare dei test credibili che possano darmi molto velocemente indicazioni su il percorso che la squadra sta seguendo e come eventualmente intervenire per cercare di farsi trovare pronti alla data clou della stagione Chiudiamo con una domanda di Fanta Basket Dove siamo alla fine di maggio Luca? Mi auguro ancora qua a Torino a lavorare e cercare di dare un seguito a una stagione che non abbiamo mai nascosto vogliamo che possa avere un appendice un seguito in quella post-season che manca a Torino da troppi anni e quindi sarebbe un grande orgoglio guidare questa squadra ad un play-off dal quale Torino è assente addirittura da 26 anni In bocca al lupo e buon lavoro coach Grazie Crepi